La Seco Service Ortona regola in 3-7 Taviano e guadagna il terzo posto, sfruttando le concomitanti sconfitte di Catania e Grotta Zolina. Tutto facile per la Seco contro il Sessetto Salentino, guidato dall'ex ortonese Milan Bench, e con in campo anche il quarantenne ex azzurro Matei Cernic. Buona la prova di Mattia Sorrenti, che ha sostituito l'infortunato Dolfo, ma a guidare Ortona è stato Christoph Marx. L'opposto tedesco ha chiuso la gara con 21 punti e il 61% di efficacia offensiva, risultando i migliori in campo. Bene anche al centro Menicali e Simoni, poco da fare per Taviano, che è rimasto in partita solo nel primo set, comunque tenuto in pugno da Ortona, che ha allungato nella parte finale, vincendolo 25-22. Senza storie gli altri due parziali, 25-20 in 26 minuti e 25-17 in 28 minuti, con i salentini tenuti in piedi offensivamente dal solo Bench, autore di 25 punti ma col 44%. Alla fine applausi per gli 800 tifosi di casa presenti nella Palasporto Comunale, che si godono l'ottimo momento del sestetto di Nunzio Lanci, che ha vissato il successo sul Grotta Zolina. Ed ora può sfruttare il calendario che nelle prossime due domeniche prevede la trasferta di Viterbo contro il fanalino di Coda Tuscania ed il match interno con Gioia del Colle.